Marizio Fugati è il commissario della Lega Nord Sud Tirola, che importante accordo avete fatto? Abbiamo raggiunto un accordo per le elezioni europee con Ifrae Eitrichen, che rappresenta la minoranza di destra del Sud Tirolo, che guardano ai liberali austriaci. Hanno la gran parte delle idee simili a quelle della Lega, dall'immigrazione alla sicurezza, alla visione dell'Europa. Sono stato il secondo partito più votato in Alto Adige, sia alle ultime provinciali che politiche, quindi è un bel accordo. Loro candideranno un loro candidato all'interno della lista della Lega e credo che sia un'apertura verso il mondo delle minoranze, verso il mondo delle autonomie. Loro chiedono l'autodeterminazione, lo stato libero verso Tirolo e noi siamo d'accordo, perché la Lega è sempre stata a favore del principio di autodeterminazione. Credo che sia un bel accordo per la Lega dell'Alto Adige, ma anche per la Lega in generale, perché in un momento in cui il Veneto chiede autodeterminazione, la Lombardia chiede maggiore libertà, noi andiamo a fare gli accordi con chi ha alla base della sua essenza politica l'autodeterminazione. Questo è un accordo che fa oltre le elezioni europee? Questo è un accordo che non nasce oggi, lo abbiamo cercato anche nelle scorse elezioni sia europee che politiche. Il loro problema era che noi avevamo degli accordi con chi vedeva lo Stato centralista, perché fare gli accordi con l'Alleanza Nazionale per loro era oggettivamente impossibile. Quindi questo è un primo passo, auspichiamo, anche per un eventuale accordo sia per le provinciali che per le politiche. Il Sud Tirola Follas Partai dice che è un accordo assurdo che non sta in piedi, lei come commenta? Che già il fatto che abbiano commentato questo accordo dimostra quanto temono questo accordo, perché per la prima volta nel mondo sud tirolese c'è la possibilità che un candidato di lingua tedesca non dell'SVP possa giocarsi una partita potenzialmente giocabile, poi ovviamente bisogna prendere i voti per farlo e prendere le preferenze per farlo. Però è la prima volta che un rappresentante della minoranza tedesca, di un partito delle minoranze tedesche, ha la possibilità di giocarsi una partita all'elezione europea che non è dell'SVP. È la prima volta, quindi si passerà un messaggio nell'elettorato tedesco che anche non votando l'SVP qualcuno potrebbe farcela ad essere eletto. Quindi è dirompente questa cosa. Grazie.